Pochi secondi fa ho concluso un cordiale incontro con il sindaco Manfredi, siamo stati da soli a parlare, quello che mi sento di dire qua è che auguro ovviamente a Gaetano Manfredi buon lavoro, ma soprattutto alla città di Napoli ogni bene e ogni fortuna, al popolo che ho servito per dieci anni e mezzo con tanta dedizione e che oggi riprenderò e continuerò a vivere senza il peso dell'amministrazione, ma con la responsabilità di essere stato sindaco per tanti anni, ovviamente ho garantito al sindaco Manfredi qualora ne avesse necessità qualsiasi collaborazione di tipo istituzionale per garantire la continuità amministrativa. Grazie, buon lavoro e buon tutto. Grazie. Grazie.